Di nuovo insieme, come dicevamo prima della pausa pubblicitaria, torniamo sulla tragedia di Via Mariti. Lo facciamo per capire meglio con Pierluigi Banchietti, che è presidente dell'Associazione Nazionale Costruttore Edili di Firenze, per capire meglio come funzionano i cantieri. Ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo sentito tanto parlare in questi giorni, anche sul fronte sindacale, ma da parte appunto di chi poi i cantieri vive tutti i giorni. Per intanto benvenuto. Grazie. Che idea vi siete fatti? Noi, come dicevamo anche prima con gli ospiti, più su un fronte politico, abbiamo letto che in quel cantiere c'era una società, che è la che andava a costruire il supermercato, ma poi 60 più o meno imprese che vi lavoravano. È un caso a sé stante particolare oppure è un po' la prassi? Allora, credo sia necessario fare chiarezza ovviamente di quello che si è venuto a conoscenza dai primi giorni dopo l'accaduto. Allora, sul fronte ovviamente sia del mercato edilizio privato e pubblico, all'interno ovviamente dei cantieri sono presenti sempre molte aziende sostanzialmente, in particolare al modo quando un cantiere è così complesso e articolato, senza ombra di dubbio. Le cosiddette 61 imprese all'interno ovviamente di un cantiere che io abbia compreso, nel senso che non sono effettivamente 61 subappalti, o ancora peggio se fossero 61 subappalti a cascata. Sicuramente lì in quel cantiere c'erano aziende che avevano un appalto diretto, e quindi non si configura come un vero e proprio subappalto, e comunque vada, questo diciamo conferisce una linea diretta tra direttamente la committenza, che appalto è lavoro e l'azienda stessa sostanzialmente. Ovviamente potete comprendere che un cantiere rispetto a tanti, un cantiere di lei rispetto a tante altre modalità produttive, prevalentemente industriali, ha una sua specificità, non è una linea di montaggio, non è una catena di montaggio, e ovviamente il cantiere ha un suo excursus e un'evoluzione di giorno in giorno. Quindi sostanzialmente la sicurezza ha necessità di essere eseguita costantemente giorno a giorno, progettata durante la fase di progettazione, ma parallelamente costruita insieme all'edificio. Adeguata. Adeguata all'evolversi sicuramente del cantiere e delle lavorazioni, perché è un costruendo, stiamo all'interno del prodotto che si costruisce, quindi ovviamente questo comporta un approccio diverso, un approccio culturale. Sicuramente non è solo la sicurezza in un cantiere di lei, non è solo una mera disposizione di messa in pratica di disposizioni prevalentemente normative. Va vista proprio come un approccio culturale sostanzialmente, dove lì in quel caso va valutata come una lunga catena, e ogni suo anello è composto dai vari attori di presenza all'interno del cantiere, partendo dalla committenza, i progettisti, i consulenti, le imprese, fino al singolo operaio all'interno del cantiere stesso. Anche se quell'operaio lavora in quel cantiere un solo giorno sostanzialmente. E ovviamente potete capire che viene meno la catena stessa quando viene meno almeno un suo anello sostanzialmente. E quindi ovviamente necessita un'attenzione molto più calibrata, molto più seguita sostanzialmente rispetto a attività un pochino più standardizzate sostanzialmente. Su questo fronte ovviamente l'idea che ci siamo fatti in un cantiere così complesso, e su Firenze ovviamente ce ne sono, sia privati che pubblici, va messo a risalto che ai fini della sicurezza non c'è distinzione tra un appalto pubblico e un appalto privato. Poi vi spiegherò effettivamente cosa vuol dire tra un appalto privato e un appalto pubblico sostanzialmente. In quel caso ovviamente la cosa molto più importante su cui come associazione abbiamo una maggiore attenzione oggigiorno è quello di puntare prevalentemente su una qualificazione delle imprese, in particolar modo sul mercato privato. Sostanzialmente è un po' la strega di quello che avviene nel mercato pubblico. Oggigiorno per poter accedere a un determinato tipo di appalto nel mercato pubblico cioè le aziende devono essere qualificate per poter realizzare una certa opera di una certa categoria o tipologia con un certo importo, devono essere accreditate. Quello che ormai da diverso tempo stiamo come associazione spingendo su questo fronte è proprio quello che questo accada anche nel mercato privato. E lo abbiamo fatto fin dall'inizio del super bonus. Diciamo che questa voce poi alla fine è stata un po' inascoltata fino a luglio 2022 quando poi a livello governativo è stato possibile poter inserire una qualificazione solo per un certo livello di importi della qualificazione cosiddetta SOA, non entro nel particolare. Questo aspetto ovviamente determina un primo tassello per la vera e propria qualificazione delle imprese perché giustamente bisogna avere capacità tecniche, economiche, funzionali e ovviamente di organizzazione per poter gestire questo aspetto. Oggigiorno una cosa che vi potrà addestare sospetto è il fatto che nel mercato privato io oggi potrei andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA e senza nessun limite potete realizzare importi di qualsiasi entità. Le differenze tra il pubblico e il privato ci diceva sono, da questo punto di vista, quali possono essere? Allora, sicuramente, come le dicevo, l'aspetto della qualificazione è un aspetto importante, fondamentale, sicuramente. Cioè, oggigiorno già poter accedere a un determinato tipo di importo di gara oggigiorno nel mercato pubblico è possibile farlo. Stessa cosa potrebbe essere, diciamo, il punto di partenza per una qualificazione delle imprese ma oggi giorno non si basa solo, diciamo, solo su una categoria SOA sostanzialmente ma come potete comprendere ovviamente si parla, diciamo, sugli impatti ambientali, gli impatti sociali sono, diciamo, qualificazioni molto più, diciamo, al passo con i tempi però da qualche parte oggi giorno dobbiamo iniziare per forza e su questo aspetto penso che sia, diciamo, una buona occasione per poter puntare, ecco, su questo fronte. Lei ha citato il tema del super bonus, è stato un momento, una bolla da tutti i punti di vista anche proprio per quello nel mondo dell'edilizia che ha creato tantissimi posti di lavoro ma tanto rapidamente sono nati quanto rapidamente molto spesso sono scomparsi. Che periodo è stato quello? Qual è l'eredità adesso che lascia? Allora, sicuramente lascia... Parlando di sicurezza, eh? Eh, parlando di sicurezza, come potete comprendere... Allora, come un po' accennato prima, la sicurezza, diciamo, proprio per essere un approccio culturale e non una mera, diciamo, imposizione, diciamo, di mere regole essendo un approccio culturale va costruito l'approccio culturale e qui mi viene da aggiungere un altro aspetto importante sul fronte della sicurezza non è solo il caschetto, il berretto, le scarpe antifortunistiche, il ponteggio che poi possono, ovviamente, devono per forza essere, diciamo, a norma di legge ma ci sono altri aspetti molto importanti sicuramente i telespettatori hanno percepito poi, fino a poco tempo fa la grande corsa del super bonus al di là dell'eredità della nascita di molteplici e numerose aziende all'interno, ovviamente, del mercato dell'edilizia che prima non esistevano quindi questo ci ha dettato qualche sospetto su questo fronte c'è anche un aspetto relativo al tempo ridurre i tempi e sempre di più sta succedendo sia nel mercato privato ma anche nel mercato pubblico cercare di spingere, da parte, in proprio modo, dalla volontà ovviamente della committenza o dalla stazione appaltante cercare di ridurre e comprimere le tempistiche comporta per cosa una riduzione del grado di sicurezza questo è bene, dicevano le nonne vanno bene insieme bravissimo, nel senso che questo è proprio l'aspetto cioè comprimere effettivamente i tempi comporta fare le stesse cose nello stesso spazio in un tempo più ridotto questo comporta, ed è, non lo sto raccontando io è proprio un principio che è nel retrogettativo 81 del 2008 il testo unico della sicurezza e comporta maggiori interferenze maggiori interferenze, lo abbiamo visto purtroppo devo rifare riferimento all'accaduto ovviamente al di là che non sarebbe dovuto accadere ma sicuramente c'erano delle attività che erano sovrapposte l'una sull'altra proprio sulla verticale ovviamente una sopra l'altra questo sicuramente comporta ovviamente diciamo un'interferenza e questa volontà al di là dell'aspetto dei costi che è un altro aspetto oggigiorno si cerca ovviamente di comprimere sempre di più le tempistiche e questo comporta ovviamente con la fretta ovviamente rischiamo ovviamente tutti ovviamente di fare di fare errori ma per forza di cose comporta ovviamente diciamo una compressione di attività e questo ovviamente non porta a un innalzamento della sicurezza anzi è una decurtazione del grado di sicurezza Quest'ora va in Consiglio dei Ministri un pacchetto di interventi annunciati tra l'altro dalla Ministra Calderone e dalla Ministra del Lavoro proprio a Firenze tra questi passaggi c'è un aumento dei controlli intanto voglio capire se ci sono qua e in che misura i controlli nei cantieri avvengono altre iniziative si parla della patente a punti non c'è l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro qual è il vostro giudizio? Allora, relativamente ai controlli non possiamo essere che favorevoli perché ovviamente se ci sono ovviamente diciamo delle inefficienze o delle mancanze di applicazione normativa è bene che ovviamente siano ovviamente controllate per forza di cose l'aumento, cioè l'innalzamento ovviamente degli ispettori di controllo non lo vediamo assolutamente diciamo non lo vediamo male, insomma di dubbio la cosa importante è che come dicevo prima deve essere un approccio prevalentemente diciamo prima di tutto culturale nel senso e quindi diciamo ci deve essere anche un supporto ovviamente da parte degli enti a far sì che prima di tutto ci sia un innalzamento dello standard di sicurezza e prima di tutto anche consulenziale posso aggiungere su questo aspetto anche le attività di supporto da parte diciamo anche degli enti bilaterali noi diciamo come ANCE siamo parte insieme ai sindacati di una cassa di previdenza e di una scuola di formazione di un centro ovviamente diciamo di supporto per le imprese questo deve essere diciamo il primo passo a supporto ovviamente delle imprese ai fini dell'applicazione ovviamente della sicurezza ma la stessa cosa ovviamente può avvenire ovviamente da parte sul fronte ispettivo sul fronte ovviamente diciamo della patente appunti diciamo qualche perplessità sicuramente ce la lascia perché oggigiorno come ho detto prima apro la partita IVA e sono impresa e parto e posso realizzare qualsiasi tipo di importo e la patente appunti ovviamente da quello che si evince dalle prime indescrizioni al momento diciamo dell'attivazione della partita IVA io ho 30 punti cosiddetti della patente appunti domani mattina succede ovviamente una criticità all'interno di un cantiere io domani mattina posso andare a chiudere la partita IVA e prendere un'altra quindi mi sembra un meccanismo in particolar modo a di là diciamo della sempliceria dell'esempio secondo me proprio per il fatto che a differenza della patente di guida dove ovviamente è il guidatore il solo guidatore responsabile delle proprie attività in questo caso come ho detto la sicurezza fa parte di tanti attori non è così banale diciamo conferirle solo e esclusivamente all'impresa e la mancata introduzione del reato di domicilio sul lavoro vi trovo d'accordo? Allora su questo aspetto questo lo dovremo valutare diciamo nel dettaglio secondo me oggigiorno l'architettura il disposto normativo ad oggi ai fini della sicurezza è abbastanza articolato necessita secondo me trovare il modo di applicarlo in maniera efficace questa è la parte serve nuove leggi questa è la nuova sfida questa è la nuova sfida questa è la nuova sfida questo senza dubbio da un punto di vista associativo ci stiamo lavorando a livello nazionale stanno lavorando ovviamente su dei protocolli di formazione direttamente ovviamente nei paesi una prima sperimentazione ovviamente la stanno diciamo ideando ovviamente in Tunisia proprio per portare formazione ovviamente direttamente nei paesi e per poter poi portare diciamo mano d'opera ovviamente realmente formata la stessa cosa avviene sicuramente in Toscana e a Firenze su questo aspetto Presidente la ringrazio grazie mille per averci fatto un po' chiarezza insomma in un mondo molto molto complicato grazie per essere stato con noi noi chiudiamo qui il nostro primo piano vi ricordo l'informazione da noi non si ferma mai 17.15 cittadà 19.27 il Tg e stasera dalle 20.15 viola in campo c'è la Fiorentina contro la Lazio partita delicatissima grazie a tutti per averci seguito arrivederci buonasera grazie a tutti